Ciao ragazze, bentornate a tutte! Oggi leopardiamoci le unghie, una nail art davvero facile facile da eseguire e è possibile cambiare i colori in base ai propri gusti. Quindi se vi piace mettete un pollice in su e seguite il tutorial. Ho steso una base di collistar rinforzante. Adesso vado a stendere lo smalto Pupa numero 512, un giallo ucra davvero bellissimo, e lo lascio asciugare. Con uno smalto Essence da Nail Art collezione Tribal Summer inizio a macchiare le mie unghie e lo faccio per tutta l'unghia. Sempre con uno smalto nero da Nail Art Essence collezione Tribal Summer, vado a guardare le mie unghie. Non è importante essere precisi, anzi, più astratto è l'effetto, più somiglierà al maculato. iscriviti al nostro canale. infine applico un top coat per fissare il tutto e la nail art è completa fatemi sapere in un commento cosa ne pensate se vi va aggiungendo il video nei preferiti e se vi piace condividetelo anche su facebook un bacio da tutte ragazze vi ricordo che aperto un profilo instagram dell'infobox e dic ciao